Ancora una notizia di cronaca, sono stati assolti l'ex direttore provinciale dell'INA, il Pietro Pastorino e altri due funzionari, Cinzia Rotella e Paolo Rebollini, imputati di truffa ai danni dello Stato nei confronti dell'Inps nell'ambito dell'inchiesta sulle pensioni speciali per l'esposizione all'amianto, che secondo l'accusa sarebbero state concesse a ex dipendenti Ansaldo che non ne avrebbero in realtà avuto diritto. Sono stati assolti per alcuni episodi perché il fatto non sussiste e per altri perché il fatto non costituisce reato. Il PM Luca Scorza Azzara aveva chiesto 6 anni e 4 mesi e 25 giorni per Pastorino, 5 anni e 25 giorni per Rotella, 2 anni e 4 mesi e 15 giorni per Rebollini. Secondo l'accusa i tre avrebbero rilasciato 263 certificazioni in debite con un danno per l'Inps da valutare intorno ai 36 milioni di euro, calcolati dai vari pensionamenti fino al 2011.